Prosegue a pieno ritmo la campagna vaccinale del Veneto, dove è già stata superata quota 3 milioni per quanto riguarda le somministrazioni in generale. Di queste, 2 milioni sono prime dosi, 1 milione i cicli completati. Lo conferma anche il Presidente, Luca Zaia. Abbiamo erogato 3 milioni di dosi e delle 3 milioni di dosi abbiamo 1 milione di cittadini veneti che hanno già avuto il ciclo completato. Questo accadrà in gran numero anche per questo mese di giugno-luglio perché avremo tutti i richiami delle seconde dosi AstraZeneca di chi ha fatto il vaccino 3 mesi fa e quindi avremo assolutamente moltissime seconde dosi nelle prossime settimane. Sono in molti a chiedersi e a chiedere anche a Zaia quale sarà il futuro delle mascherine fra convivenze forzate e tanta voglia di liberarsene. Ecco che cosa risponde il Governatore. Pian piano verrà abbandonata, però poi sarà un accessorio come l'ombrello. Se piove lo utilizzi, se non piove no, se non piove no. Mi spiego. Vado al supermercato, trovo una coda infinita alla cassa, è bene avere la mascherina in tasca e mettersi la mascherina in caso di assembramento. Così per molte altre occasioni. Di certo penso che pian piano l'abbandoneremo. La vaccinazione ci sta dimostrando che i vaccinati non entreranno in ospedale.